Via della Repubblica San Lazzaro Svolta a destra per rimanere su Via Fratelli Canova Svolta a destra in Via Altura Tra 200 metri, alla rotonda Grazia Veleni prendi la prima uscita e in bocca viale Sergio Cavina Esci dalla rotonda e in bocca viale Sergio Cavina Continua su rotonda Grazia Veleni per 300 metri Turn left to stay on Via Carlo Juicy, then continue straight to stay on Via Carlo Juicy In 600 metri, turn left at Via Amelia Make a U-turn, then turn right to stay on Via Carlo Juicy So, god don'tllo and then turn right to be very fuzie Grazie a tutti Un pollo sample Viore roso Verificire Per 1997 Verificire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.